Previsione per sabato 14 gennaio. Un nucleo freddo centrato sull'Europa di nord-est tende gradualmente a lambire anche la Lombardia, inizialmente in modo marginale. Aria fredda da est fa il suo ingresso in Valpadana, determinando un calo termico, anche sensibile in quota e nelle aree in precedenza interessate da venti favonici, ma ancora a tempo stabile, con cieli per lo più sereni, salvo temporane nubi sparse sulle aree pedemontane, specie nella notte. Qualche nebbia in pianura, i cieli si manterranno sereni sulle Alpi, venti deboli moderati tra est e nord-est. Previsione per domenica 15 gennaio. Masse d'aria gelida presenti a nord-est dell'Italia gradualmente continuano ad affluire anche sulla Lombardia, grazie a correnti prevalentemente da est in Valpadana. Tempo ancora in prevalenza soleggiato in Lombardia, specie sulle Alpi, ma con freddo sempre più pungente. Qualche nube sparsa su pedemontane e alte pianure, specie dalla notte. Banchi di nebbia sulle zone di bassa pianura, specie intorno al Po. Temperature insensibile calo, zero termico diurno, non oltre 1200-1400 metri.